La statistica è una scienza inutile, l'unica sua utilità è quella di venire strumentalizzata ed è quello che faremo noi, non sto scherzando. Buongiorno e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividete e devastate di lei. Guardate che per voi, ma dico noi, tifosi viola, sto cuocendo una sosta, hashtag sto cuocendo degli appuntamenti in questa sosta, che metà basta. Intanto mercoledì prossimo, 29 ore 21, cancellate tutti gli impegni dall'agenda perché faremo un devastante salotto Chiorboni, salotto Chiorboni viola con me, il Vitali, il Ferroni, il Caldieron, Garbine, proprio ignoranza viola e dibattito devastante. Faremo anche un video con il buon Flavio Ogni Santi, vi darò dell'ogni santismo, 30 domande flash a Flavio Ogni Santi che se volete fargliene qualcuna scrivetemela nei commenti che quelle belle e meritevoli le andiamo ad aggiungere al carnet. Guardatevi i video fatti, la live di ieri in sezione dal vivo, ignoranza totale, tutto il resto. Gasatevi, va bene, ma quest'oggi ci facciamo seri, tra l'altro c'ho ancora in sospeso, ditemi se volete che lo caghi. Lo facciamo l'articolo su fiorentina.it dicendo poi sostanzialmente la verità, cioè che abbiamo potenzialmente la miglior coppia di terzini titolari della serie A. No, perché se mi date il semaforo verde andiamo a gettare la verità nello stagno. Allora, detto questo, parliamo di statistica, parliamo di Fiorentina, perché nessuno lo dice, ma la fiorentina c'ha un qualcosa che ci rende estremamente orgogliosi e che va anche a dare merito a un qualcosa che ho sempre cercato di dirvi. Siamo la quarta miglior difesa della serie A. In codominio, perché se non ero c'è anche l'Udinese che ha i nostri stessi numeri, altra squadra che ha un pacchetto difensivo assolutamente di tutto rispetto, però la fiorentina che viene tanto criticata perché ci sono le fantomatiche imbucate prese dai terzini, che poi anche fosse, ma benvenga, a me gasano, io voglio che i terzini stiano alti, con voglio i terzini sulla linea d'aria avversaria e che vengano costantemente imbucati, ma viva gli terzini come ali che non difendono, che non coprono e prendono le imbucate. Ma nonostante questo, ripeto, siamo la quarta difesa della serie A per rendimento. Ora, una analisi superficiale, che cosa direbbe? Abbiamo difensori forti. Ora, io posso anche essere d'accordo perché secondo me abbiamo dei difensori assolutamente sottovalutati e parlo sia del pacchetto dei centrali, dove abbiamo tre titolari potenzialmente di tutto rispetto e anche una riserva che quando è stata chiamata in causa, parlo di Ranieri, ha spesso offerto ottime prestazioni e abbiamo un pacchetto terzini che almeno per tre quarti è assolutamente di livello, specialmente nei due titolari. Ma oltre a questo c'è anche un discorso di fase difensiva, che secondo me bisogna fare un bel plauso e vi dirò di più. Italiano viene considerato un allenatore, giustamente, secondo certe visioni, offensivista, giochista, un allenatore d'attacco, però da quando è a Firenze, tra le altre cose, ma la cosa che mi è piaciuta di più forse, la cosa che più mi ha fomentato del suo allenare la Fiorentina è proprio la gestione della difesa e della fase offensiva, con scalate in marcatura che spesso sono pronte, sono efficaci e permettono ai terzini di stare alti, una linea difensiva alta e che riesce a stare alta. Io quando vedo che scendiamo in campo e abbiamo la linea dei centrali a metà campo, i terzini a limitare dell'area avversaria, mi caso, quello è il nostro pane quotidiano, quella è la Fiorentina ed è anche una difesa efficace perché prende pochi gol. Questo a chi diceva che ogni tiro in porta era un gol perché avevamo il portiere che faceva cagare, questo a chi dice che i terzini sono buchi di groviera, questo a chi dice che Biraghi non sa difendere, che Dodò è un pacco. Siamo una difesa performante per meriti individuali e anche per un gioco di scalate, di meccanismi difensivi e di organizzazione di gioco che a me oltretutto piace. Io se devo dare un voto a italiano per la difesa e la gestione della difesa gli do 9 su 10, gli do un voto veramente alto, gli do un voto molto 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 alto. Unica pepitiella forse, unica cosa su cui ho a volte da dire è che Quarta viene impiegato poco a volte, a volte l'hai visto finire dietro nelle gerarchie in modo magari non giustificato, però comunque abbiamo una fase difensiva che è ottima e performante. Questo si aggancia anche al disco, quindi non creiamo, come vi ho sempre cercato di dire, falsi problemi laddove non ce ne sono, perché se uno guarda i numeri, la fase difensiva e la difesa della Fiorentina non sono assolutamente un problema. Non è un problema il portiere, sebbene, ripeto, si possa ragionare per l'estate su un investimento su di un giovane in quel ruolo, un carne secchi. Non sono un problema i centrali, che quest'estate si diceva serve un centrale, assolutamente no perché abbiamo tre titolari di livello. Non sono un problema i terzini, anche perché oltretutto sul ruolo per me abbiamo forse la miglior coppia se presi in due della Serie A potenzialmente. Quindi questo discorso si aggancia anche sul fare mercato, perché poi ci possono essere delle suggestioni. Per esempio a mio papà piace molto Cumbulla e sarebbe tentato dal cercare di portarlo alla Fiorentina come quarto centrale qualora dovesse andare. C'è a chi piace Baschirotto, per esempio, che potrebbe essere un'altra opzione. Io sono, a me piace per esempio moltissimo Ocoli, c'ho ancora in testa l'accoppiata Ocoli-Marie di cui si parlava, no? Potenzialmente. Però al di là di questo, al di là delle suggestioni, al di là delle pulsioni personali, io credo invece che la difesa non sia assolutamente un reparto nel quale intervenire. Non è assolutamente un reparto nel quale intervenire perché ci abbiamo già tutto anche possibilmente replicabile al netto di uscite e cessioni l'anno prossimo. Perché l'unica cosa che si può fare in difesa è quella di fare il cambio tra Venuti e Pierozzi. Ok? Pierozzi come alternativa a Dodò, poi per il resto puoi tenere tutto. Anche sui terzini sinistri non farei niente perché abbiamo Biraghi che è titolare, sta andando avanti con gli anni, ok? Quindi, comprensibilmente, con un avanzamento magari dell'età e un Terzic che sta facendo bene, l'anno prossimo puoi valutare fino in fondo Terzic che avrà sicuramente più occasioni di giocare e vedi se Terzic è veramente meritevole e passibile di essere anche un giocatore su cui puntare fortemente. Ok? Quindi non andrei a prendere Parisi, non andrei a prendere nessuno. Terrei Biraghi e Terzic semplicemente dando più minutaggio, dando più occasioni a Terzic. Sulla destra abbiamo un Dodò che è, ad oggi, nelle ultime gare, fenomenale e c'hai un Pierozzi che ti può tornare a casa. Quindi anche a livello di calciomercato, per quel che riguarda il pacchetto difensivo, per me non c'è niente su cui andare a investire, a spendere, a rivoluzionare, a ribaltare. C'abbiamo un pacchetto difensivo che, al di là delle suggestioni, che possono ritornare comode qualora si dovesse fare una cessione, siamo più che a posto. L'unica roba è quella di fare lo switch tra Venuti e Pierozzi e, se c'hai la possibilità, se ti ballano dei soldi, se ti avanza qualcosa, fare un investimento sul portiere Legacy Carne Secchi. Ok? Legacy Carne Secchi. Questo per poi concludere il mercato. La soluzione ideale per me è la seguente. Ok? Indipendentemente da quelli che saranno i risultati, anche dovessimo uscire e via dicendo, io farei la seguente. Cercherei di confermare Italiano, come allenatore della Fiorentina, per l'anno prossimo. Io credo che i presupposti ci siano. E l'anno prossimo non c'è da rivoluzionare, non c'è da prendere 5, 6, 7, 8 giocatori. Ce ne sono da prendere 2, 3. Ok? Se tu cedi Amrabat, ok? Magari cedi anche Nico González, vabbè, cedi. Amrabat e forse Nico González, con quei soldi, con quelle cessioni, ok? Vai semplicemente a prendere un sostituto di Amrabat che abbia, al contempo, utilità in fase difensiva e recupero palla, ma anche più qualità nell'impostazione. Vai a prendere, se riesci, un centroavanti performante, adatto al gioco di Italiano, che sia una sicurezza, e se ti avanza, se riesci, se puoi, un portiere giovane alla carne secca sul quale fare un tuo biennio o triennio di valorizzazione, anche poi economica, basta. E poi, con rientro di Pierozzi, basta. Non c'è da rivoluzionare, c'è da puntellare, c'è da andare a sigillare, a puntellare con grande, se possibile grandissima qualità, in due barra tre ruoli cardine nella spina dorsale, basta. E la difesa, smettiamola, ripeto, di trovare problemi dove non ce ne sono, perché se abbiamo dei problemi, non sono sicuramente nella difesa, sono nella fase di impostazione, nell'ultima impostazione, nel filtrante di qualità, nello smarcamento qualitativo tramite intuizione, ok? Come magari riusciva a far meglio l'anno scorso, e sono nell'avere, magari davanti, una sicurezza di centroavanti devastante col quale, come ci succedeva magari l'anno scorso, da ottobre a settembre, a gennaio. Questo, semmai, se c'è da andare a puntellare, se c'è da andare a trovare. Ditemi cosa ne pensate voi, devastate di like, condividete, un caro saluto! Grazie.